Mu nasce in Nuova Zelanda circa 6 o 7 anni fa da una felice idea di una stilista neozelandese Shelley Tichborn. Tutto è nato da un modello, come spesso accade in tanti brand, dall'eschimo, modello in puro montone, con dei ricami a volte tonali, a volte in contrasto. Ovviamente il DNA è la comodità, la praticità e anche con qualche accento glamour. Una caratteristica del brand Mu è di usare anche materiali un po' particolari e segue ovviamente tutto il discorso moda, adesso c'è un discorso molto forte legato al biker, ovviamente abbiamo anche altri accenni sempre alle tendenze della prossima stagione. Bloc è un'azienda storica nel mondo della danza, delle calzature per la danza, nasce nel 1932 in Australia. Sono tuttora il numero uno nel mondo nella produzione di scarpe appunto da ballo. Da diversi anni è nata anche una parte civile che ha cercato di coniugare la semplicità, l'eleganza del ballo con la tecnicità della calzatura da ballo. È venuto fuori ovviamente una ballerina che ha come DNA la comodità, la flessibilità e ovviamente uno stile estremamente sofisticato.